Ciao amici, stiamo raggiungendo una località nella media Svezia, media nord Svezia e qui lungo questa strada stiamo incontrando gruppi di renne, ce ne sono ovunque, guardate, là in lontananza, ora se ne stanno andando, c'è anche un piccolo di renna, molto grazioso, eccoli lì, stanno attraversando la strada in questo momento, non mi avvicino più di tanto perché si allontanerebbero, quindi stiamo a vedere se ne troviamo anche di altri più vicini e di sicuro condividiamo questi momenti con voi, non appena vediamo avvicinarsi qualche renna andiamo di video e condividiamo, allora a presto eh, ciao!